Selene, dal tramonto all'alba, una notte ad ascoltare la luce della luna sul monte Pizzuto di Solopaca, nei pressi dell'acquedotto realizzato da Mimmo Paladino. È il suggestivo evento che coinvolgerà gli allievi del Liceo Artistico di Benevento nell'ambito del laboratorio Lavoro in Corso, a cura di Rosanna De Scicco ed Edoardo Rossi, presentato nell'Istituto d'Arte Cittadino. A parlare del progetto, il lighting designer Filippo Cannata. Quest'anno all'interno del progetto Lavoro in Corso, in programma qui al Liceo Artistico, c'è un workshop particolare, di che cosa si tratta? Si tratta di un'esperienza che abbiamo deciso di far vivere ai ragazzi del Liceo Artistico di Benevento, proiettandoli in una dimensione diversa da quella che solitamente sono abituati a vivere. Quindi anziché una conferenza sulla luce, un'esperienza con la luce. E quindi vivere questa esperienza abbiamo pensato di fargliela vivere sul monte Pizzuto, dove ho già lavorato con il maestro Mimo Paladino per un intervento che lui ha fatto. Noi ci sposteremo due o trecento metri più sopra e trascorreremo la notte sotto la luce della luna. Quindi durerà un'intera notte? Durerà un'intera nottata, sì. È una sorta di sperimentazione, di esperienza, che tende a contestualizzare i ragazzi in una dimensione che probabilmente oggi non sono più abituati a vivere e a ritornare un attimo indietro, un passo indietro, alle radici, alla notte intesa proprio in quanto tale, quindi priva di inquinamenti luminosi, di distrazioni, ok, e concentrarsi su quello che è la poesia e la poetica della luce della luna. Grazie a tutti.